Allora il Pincio, qual è lo stato dell'arte? In questo momento sono partite anche le visite, è un punto con la scadenza del Carnevale vicina che insomma destra un po' di preoccupazione? Sì, destra preoccupazione perché ovviamente quando si fanno dei lavori così invasivi in un'area così grande e molto trafficata di biciclette, pedoni, con dei negozi è chiaro che i disagi ci sono, questo però è anche inevitabile, fa parte del lavoro di riqualificazione di un'area che comunque noi riteniamo molto importante e indispensabile per questa città che dà valore alla città ma anche a chi ci abita vicino. Quindi su questo siamo certi che qualche disagio ci sia stato, ci sarà ancora per qualche giorno ma siamo sicuri che arriverà una zona riqualificata bellissima e alcune cose si riescono già a vedere. I lavori stanno proseguendo, in questo momento per selciare la parte di strada che c'è tra l'arco d'Augusto e i negozi verso Porta Maggiore dove non siamo ancora intervenuti, abbiamo chiuso, abbiamo transennato quindi i pedoni ciclisti possono passare per via Montevecchio attraverso via Guido del Cassero e ritornare comunque a usare per andare verso il Pincio via Saffi, abbiamo dovuto chiudere perché i lavori ci imponevano questo, speriamo nel bel tempo che possa tenere per cui crediamo che nel giro di una settimana io direi non di più o comunque appena possibile riapriremo e comunque indicativamente la ditta ci ha detto una settimana di lavoro, potremmo riaprire definitivamente e far transitare come prima ciclisti e pedoni. Una cosa molto particolare è che anche per il Carnevale durante questo periodo la zona invece sotto l'arco di Porta Maggiore che è quella interessata dagli scavi dove non era mai intervenuto almeno in tempi recenti la mano dell'uomo quindi le cose sono state mantenute come erano così e quindi sono emersi dei ritrovamenti medievali di grande interesse, ce lo dice la sovrintendenza dei beni archeologici e quindi abbiamo deciso di lasciare aperto ma abbiamo deciso anche di poter dare la possibilità ai curiosi, a chi si iscrive ovviamente perché non è possibile farlo per tutti fare delle visite guidate con gli archeologhi che hanno studiato l'area e hanno fatto gli scavi a mano, pulito, liberato e anche quei tunnel che abbiamo trovato per cui credo che sia una cosa interessante, interessantissima per chi è appassionato ma anche chi vuole solo curiosare, bisogna iscriverci ovviamente non ci si può andare però le visite sono gratuite fatte dalla sovrintendenza, dalla società che gestisce gli scavi archeologici per la sovrintendenza e dal comune di Fano e crediamo di aver fatto un buon servizio ai cittadini che vorranno con interesse partecipare.